Se sei stato bannato da Fortnite guarda questo video fino alla fine perché ti spiegherò come risolvere E anche se non sei stato bannato e hai più di 12 anni guarda comunque il video perché è importantissimo ragazzi Oggi infatti vi dirò perché Fortnite sta bannando anche delle persone con più di 12 anni Nello scorso video di questo argomento infatti vi ho spiegato perché Fortnite bannava le persone con meno di 12 anni Ma ha iniziato a bannare anche persone con 13 o 12 o 14 anni Quindi ragazzi dovete stare assolutamente attenti a guardare questo video Poi vi prego di mettere un bel like in questo momento per cercare di spammare questo video a più persone possibili In modo che nessuno ragazzi se lo perda Innanzitutto ragazzi cosa dovete fare se venite bannati con questa schermata ragazzi Dovete ovviamente come vi ho detto anche nello scorso video mettere la mail di un vostro genitore O meglio il vostro genitore deve mettere la sua mail Questo perché? Perché poi ragazzi al genitore per via mail Gli sarà inviata praticamente la richiesta di inserire un documento di identità Questo per cosa ragazzi? Ovviamente per verificare che sia effettivamente il genitore a rispondere e non voi Quindi assolutamente ragazzi voi non rispondete a quella mail Deve fare tutto quanto il vostro genitore Mamma, papà o anche fratello maggiore volendo credo Basta che abbia più di 18 anni non lo so ragazzi Però voi nel dubbio credete a un genitore Comunque appunto una volta ragazzi che gli sarà arrivata questa richiesta via mail Vi chiederà, o meglio al genitore chiederà Di inserire appunto un documento di identità Come la carta di identità oppure la patente O anche la carta di credito Questo cosa vuol dire ragazzi? Vuol dire che magari il vostro genitore dirà No ma io non voglio inserire i miei dati in questo gioco Non so nemmeno cosa sia Insomma voi ragazzi dovete dirgli che è Fortnite ragazzi Un gioco che giocate sempre E quindi è una cosa sicura ragazzi È importante che glielo dite Perché se il vostro genitore non vi aiuta Beh ragazzi il vostro account di Fortnite sarà eliminato E ci sarà proprio scritto il timer Come avete visto prima Avete massimo 30 giorni di tempo Però tranquilli che una volta che il genitore avrà verificato appunto Il vostro account e l'Epic Games avrà Diciamo capito che si tratta di un giocatore Beh cioè di un genitore scusatemi Ho sbagliato termine Ovviamente ragazzi il vostro account sarà ripristinato E potete tornare a giocare ragazzi Però è importante che sia appunto il vostro genitore a mettere i suoi dati Insomma e non voi Ma ora veniamo al dunque Perché Fortnite sta banando anche persone con più di 12 anni Se io nello scorso video avevo detto che bannava solo quelle con meno Beh ragazzi ci sono due possibili motivazioni Perché si Fortnite sta banando praticamente quasi solo le persone con meno di 12 anni Ma non tutti quanti ragazzi Infatti qualcuno con più di 12 anni è stato comunque bannato E per questo vi chiedo di condividere il video e di stare assolutamente attenti ragazzi Perché se vi bannano ragazzi sono veramente guai Anche perché si vi ho detto come risolvere Però non penso che vi piaccia essere bannati ragazzi Non lo so eh Però secondo me non vi piace Ci sono due possibili motivazioni O si tratta di un bug Quindi un bug che praticamente fa bannare tutti quanti Oppure ragazzi c'è stata un'altra motivazione che molte persone hanno dedotto Ovvero che Fortnite abbia registrato praticamente la nostra voce E abbia pensato che alcuni che hanno comunque più di 12 anni Avessero avendo appunto una voce da bambino Avessero comunque meno di 12 anni Quindi secondo l'Epic in base alla voce Ha pensato che alcune persone avessero meno di 12 anni e le ha bannate Ovviamente il procedimento per ripersonare l'account è lo stesso ragazzi Dovete fare quello che vi ho detto prima Se non avete capito riguardatevi il video e condividetelo ora a tutti quanti i vostri amici Però appunto come vi ho detto Può essere che vi banino anche se avete più di 12 anni Perciò state assolutamente in allerta ragazzi E non mettete per nessun motivo dati fasulli nel vostro account Prima di includere comunque saluto Jacopo il matto che ha shoppato il bundle di ninja con codice NAXX E mi raccomando fatelo anche voi se volete essere salutati Anche un balletto da 200 Basta che ci fate il video mentre shoppate Comunque ragazzi vi auguro mi raccomando di recuperare il vostro account Codice creatore NAXX nello shop Se mi volete supportare gratuitamente Bella ragazzi